Proponiamo uno screening più che una visita in cui si fa una raccolta anamnestica per sapere qual è il profilo di rischio dei pazienti. I pazienti verranno testati con un esame del sangue molto semplice, con una piccola puntura al dito. Questa puntura al dito permette con una goccia di sangue di valutare proprio quello che stavo dicendo, i livelli di colesterolo buono, cattivo, il livello totale e anche la glicemia. Sarà controllata anche la frequenza cardiaca e il ritmo cardiaco che sono due cose importanti. Quindi non facciamo un elettrocardiogramma ma controlliamo se il ritmo cardiaco è buono, se ci sono delle aritmie. A volte il fatto di avere tante extrasistoli quando queste persone dicono mi sento il cuore che batte forte. Questa cosa a volte è segno di malattia cardiovascolare, quindi il ritmo cardiaco è una cosa importante da controllare. Controlleremo naturalmente la pressione arteriosa. Messi insieme tutti questi parametri consegneremo a ogni paziente una griglia nella quale viene individuato per ogni singola persona il profilo di rischio. Ci sarà la persona che per fortuna non ha familiarità al colesterolo buono, non ha la pressione alta eccetera e sarà in una fetta del rischio bassissimo. Ci saranno persone purtroppo che per la somma di queste cose avranno un rischio più elevato e lì dovremmo incidere per dire la tua vita, la tua prospettiva di vita cambieranno completamente se tu da adesso rimuovi questi fattori di rischio. Questa è la cosa più importante di tutte. Saranno due giornate, l'accesso è libero, non c'è bisogno di nessuna prenotazione. Naturalmente bisogna avere il green pass perché per entrare all'interno del track bisogna essere con il green pass. Non c'è bisogno di prenotazione perché se arriva si ritira un numerino e su questo numero c'è una sala d'attesa esterna. Quando è proprio turno si fa questo iter che dura non tantissimo, quindi è una cosa del tutto fattibile. Considerate che nelle altre sedi abbiamo avuto delle punte anche di oltre 30, una media di 280 persone scrinate per questa cosa. Quindi sicuramente è una cosa che ha un grosso valore territoriale. Noi come gruppo Villa Maria ci crediamo tantissimo, il GVM gruppo si è sempre impegnato non soltanto nella cura della malattia cardiovascolare, perché abbiamo una quantità di professionisti, io mi metto in quel gruppetto che si occupa della famosa gomma esplosa, cioè quando uno è arrivato che ha già il problema acuto e per fortuna riusciamo a risolvere tantissime problematiche nell'ambito cardiovascolare, però tutto l'ambito culturale che gira intorno a questa cosa è un ambito che deve essere sulla prevenzione. Vogliamo che sempre meno persone arrivino in fase acuta e che sempre meno persone si ammalino di malattie cardiovascolari. Perché questa cosa uccide forse più del covid, anzi sicuramente più del covid, quindi bisogna tornare a pensare a questa cosa in maniera molto più appropriata.